Uno degli infortuni più curiosi della storia è quello che coinvolge Mudingai quando militava nella Lazio. È proprio lui a spiegare cosa gli accadde a pochi giorni dalla partita tra la squadra bianco celeste e la Roma. Io ho paura dei cani, di cagno lo sapeva. A qualche giorno dal nostro primo derby aveva invitato tutti i nuovi a casa sua. Eravamo io, Belleri, Tare e Berami. Quando siamo entrati c'era il suo cane, un rottweiler, legato in giardino. Ha cominciato ad abbagliare, così dissi agli altri di entrare velocemente. Di cagno è arrivato da dietro, io non l'ho visto. Ha fatto finta di abbagliare e mi ha stretto. Gli urlavo, mi ha morso il cane, mi ha morso il cane. Quasi piangevo. Era di cagno che mi stava facendo uno scherzo. Mi sono stirato per lo spavento. Sono stato fuori quasi un mese.